I dati dell'occupazione segnalano una perdita di 6.000 posti di lavoro rispetto all'inizio della crisi, sebbene l'ultimo triennio registri comunque un saldo positivo con un numero di occupati salito da 89.500 unità a 92.000. Così Adriano Sincovici, segretario generale CGL Trieste, che ha tracciato stamattina un bilancio del 2015 con particolare riferimento alle criticità del mercato del lavoro. Sincovici ha sottolineato come fino ad oggi la struttura economica di Trieste sia rimasta la medesima con un panorama occupazionale rivolto per l'85% al terziario, mentre solo i 25% riguarda quello industriale, non essendo avvistate novità importanti dal punto di vista di nuovi insediamenti produttivi, mentre per il prossimo anno vi è qualche aspettativa di cambiamento. Ci sono dei segnali positivi utili nel senso che c'è un segno di cambiamento su alcuni aspetti di fondo della struttura economica che è legata l'azione soprattutto delle amministrazioni locali che stanno tentando di definire una strategia. Purtroppo i tempi di queste operazioni sono tempi lunghi e quindi noi registriamo che la popolazione triestina, in particolare la parte più povera, insomma continua a essere significativamente sofferente. Ricordo i dati ad esempio che riguarda l'aspetto della povertà, cioè le 7.000 interventi di assistenza economica che solo il Comune di Trieste ha fatto nel corso di quest'anno. Ma anche altri segnali sono per esempio le 2.500 domande alla nuova misura di sostegno economico che la Regione ha istituito. Sono segnali che la crisi continua a esserci anche se qualche elemento di utilità si comincia a intravedere sullo sfondo. Sinkovic ha ricordato le tante battaglie svolte da sindacata a tutela dei posti di lavoro nel corso del 2015 da Alcatel Frextronics a Revas a Burgo e Elettra, sottolineando l'impegno delle amministrazioni locali a favore dell'occupazione, rivelato si spesso indispensabile. Perché è l'ultima in ordine di tempo l'avartenza della Burgo senza l'intervento politico e in prospettiva economico della Regione stessa l'azienda avrebbe chiuso lo stabilimento di Trieste.